Dottore Vecchio, anche quest'anno si svolgerà il congresso Highlights in Neurology. Siamo alla quarta edizione e ancora una volta esperti nazionali si confronteranno su tutte le tematiche così vaste della neurologia qui a Caltanissetta. Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare questo evento. Quando dico siamo riusciti perché questo periodo fare eventi in presenza con la pandemia ancora in corso richiede degli sforzi organizzativi molto forti. Siamo particolarmente contenti perché riusciamo a portare a Caltanissetta importanti relatori e moderatori provenienti da tutta Italia, questa volta anche dall'Europa. Abbiamo mantenuto quello che è l'obiettivo di un aggiornamento Highlights, cioè le ultime novità. Le ultime novità che sono tante, la neurologia è una delle branche che più si avvale del progresso scientifico, di un progresso scientifico attualizzato nel senso che è subito usufruibile ai nostri pazienti. I focus quest'anno sono tre. Un focus che è la malattia di Alzheimer, la sclerosi multipla e le malattie cerebrovascolari acuti, quindi lo stroke ischemico o emorragio. Non apparentemente lo stroke ischemico. E proprio a proposito di Alzheimer abbiamo un nuovo farmaco. Sì, ecco, e si apre un'era nuova. Quindi andrei al di là di questa importantissima vicenda del farmaco, ma la dimensione che si apre è che nel giro dei prossimi 5-10 anni al massimo, certamente ci sarà la svolta nell'ambito dell'approccio clinico della malattia di Alzheimer. Sappiamo molte cose di questa malattia, sappiamo perché viene, sappiamo com'è determinata, sappiamo i processi fisiopatologici, i danni anatomopatologici. E quindi adesso agiamo direttamente in modo causale, impediamo l'ingresso all'interno delle cellule neuronali di una sostanza che si chiama amiloide. Il mondo adesso è molto dominato dai cosiddetti farmaci sedettivi, anche in questo caso avremo degli anticorpi monoclonali, che, diciamo, agiranno per impedire questo ingresso di questa sostanza che poi determinano i grossi danni che portano inevitabilmente poi allo sviluppo della malattia. Il farmaco è già stato registrato negli Stati Uniti, l'FDA, in questo momento in America si sta usando questo farmaco. Si chiama Ducanumab ed è un farmaco nel cui sviluppo hanno lavorato anche centri europei e anche italiani. Avremo nel nostro congresso delle personalità che hanno lavorato lo sviluppo di questo farmaco. Provengono dal gruppo del professore Frisoni, che è italiano, che lavora a Ginevra, e il professore Corbo, che, diciamo, sta a Milano, a Policlinico di Milano. Ecco, loro hanno contribuito a dei trials che, diciamo, sono stati utilizzati negli Stati Uniti per registrare i farmaci. Quindi noi pensiamo in Europa che questo fenomeno della registrazione avverrà nel 2022-2023, però io penso e spero che entro il 2022 possiamo avere anche noi a disposizione l'utilizzo di questo farmaco. E in concreto come migliorerà la malattia? E moltissimo. Innanzitutto, anche per l'Alzheimer, noi dobbiamo cercare di fare diagnosi molto precoce. Dobbiamo fare diagnosi precoce, quindi nelle forme iniziali, perché il cervello è un organo un po' particolare, nel senso che dobbiamo cercare che si danneggi. E quindi prima possibile dobbiamo cercare di intervenire nel momento in cui... Quindi diagnosi molto precoce, diagnosi molto precisa, abbiamo la tecnologia per poterlo fare, esiste una metodica che si chiama PET-AMILOIDE, che ci consente di già verificare l'ingresso ed è, diciamo, obbligatorio fare questo tipo di esame. Dopodiché si inizia questa terapia con questi anticorpi monoclonali che hanno dato, negli studi registrativi, degli ottimi risultati. E un'altra patologia che invece in questi anni sta registrando dei buoni successi in termini farmacologici, di approccio terapeutico, è la sclerosi multipla. Tante le novità e ancora ce ne saranno. Sì, il mondo della sclerosi multipla è stato quello che più di ogni altro negli ultimi vent'anni è stato oggetto di grandi, grandi, io direi, rivoluzioni. Cioè abbiamo cambiato la storia naturale di questa malattia, abbiamo consentito a milioni di persone nel mondo di potersi curare, abbiamo consentito di poter determinare una qualità della vita importante, abbiamo sfatato moltissime situazioni, abbiamo messo in condizione le donne di partorire, di fare loro devidanze. Quindi c'è stato veramente un'azione sinergica di tutto il mondo scientifico, farmacologico, clinico, che ha portato a dei grandi risultati. Ogni anno abbiamo sempre delle novità. Quest'anno è entrato, è appena pubblicato in gazzetta, la possibilità di utilizzare un farmaco che si chiama Zanimod, che è un farmaco che, diciamo, arricchisce ancora di più il nostro armamentario farmaceutico. Cioè in realtà stiamo realizzando sempre nell'ambito della sclerosi multipla quello che è l'obiettivo che, diciamo, caratterizzerà la medicina del futuro. Cioè la terapia personalizzata. Cioè noi, diciamo, faremo un cappotto, cuciremo ogni paziente a una terapia specifica, non ci sarà la terapia uguale per tutti. E lì, certamente, apre la strada anche i meccanismi di cosiddetta farmacogenomica. Dimmi che gene hai e quindi avrai una tua terapia specifica. Quindi ogni persona avrà la sua fara. Perché nel mondo della sclerosi multipla questo è un fenomeno che già noi stiamo portando avanti. Grazie. Grazie.